Importanti. Volevo chiedere, già che ho la parola, se posso, rassicurazioni, in particolare a non avevo il Goodgeld, per quanto riguarda le coperture, perché ci sono voci che tradizionalmente una gestione prudente cerca di non quantificare in copertura prima che le grandezze siano note, cioè proventi dall'evasione, proventi da spending review e forse costi relativi al livello degli interessi. Quando si prevede una diminuzione di tassi di interesse è di solito buona norma non mettere troppo riccamente a copertura il previsto risparmio dagli interessi che poi potrebbe non manifestarsi. Ecco, mi chiedo in una fase in cui, speriamo di no, ma sembra esserci una tendenza a rialzo degli interessi, che cosa si può dire sul modo in cui queste voci sono state trattate. Prima di dare la parola, a proposito di spread, c'è un primo dato, è salito a 179 in questo momento, questo è quello che riportano le agenzie. Prego. Allora, tanti punti, vorrei rispondere in particolare su... Prima a Monti, poi. E poi a Bellasio, sì. Poi riprendo un punto di Bellasio. Partiamo dall'evasione. Noi abbiamo previsto una serie di misure specifiche. Faccio un esempio così si capisce di cosa stiamo parlando. Parto proprio dal dato concreto. Noi abbiamo oggi delle imprese di pulizia, parlo di cose veramente terra a terra, che prestano dei servizi alle imprese, fatturano quello che è dovuto a loro, più l'IVA, questa IVA loro la incassano e purtroppo a volte non la versano. Non meno vorranno le imprese di pulizia, la gran parte sono aziende per bene, però c'è una certa minoranza cospicua che invece non versa questi soldi. Sono solo nel settore della pulizia più di 200 milioni l'anno. Noi abbiamo previsto nella legge di stabilità che l'IVA dovuta ai servizi per le imprese della pulizia viene versata direttamente dai comitenti allo Stato. Tutta la previsione dell'aumento di entrate dovuto a questi meccanismi è stata fatta con precisione. Abbiamo degli elementi concreti per valutare tutti questi cambiamenti e devo dire che siamo stati prudentissimi. Io credo che in realtà da questi cambiamenti, in modo in cui opera il fisco, noi incasseremo l'anno prossimo più di quanto è stato previsto. Però, se ho ben capito, la novità è anche che si è inserita la previsione del recupero dell'evasione. Ma è stato fatto anche nel passato. Il recupero dell'evasione è sempre stato fatto, anzi devo dire, forse prima del suo governo senatore, sono state fatte delle previsioni ancora più ampie, basate invece su generici aumento di controlli. Parlo del suo successore come ministro dell'economia. Del suo, scusi, predecessore come ministro dell'economia. Quindi io su questo fronte credo che siamo stati prudenti, vedrete nella legge di stabilità sei o sette misure specifiche, quantificate con precisione, estimate prudenzialmente. E non temete, perché io seguo con interesse anche quello che si sta cercando di fare per rendere più razionale ed efficiente il sistema fiscale. Devo dire, io come cittadino e nel breve periodo in cui ho governato, come governante, ho una profondissima avversione per i condoni, che sono la madre delle future evasioni. Leggo, doppia sanatoria sul sommerso. Alla disclosure per i capitali all'estero si aggiunge quella sul nero in Italia. Più tempo per il perdono del fisco. Il contribuente potrà ravvedersi fino alla scadenza della prescrizione dell'accertamento. Ci sono condoni? No, assolutamente no. E questi pezzi sono sbagliati? Il rientro dei capitali... Lì c'è Bellasio che è del sole 24 ore. Ma adesso Gutke lo spiega meglio di me perché non sono sbagliati. Il disegno di legge di natura parlamentare sul rientro dei capitali in realtà permette a chi ha i soldi all'estero di riportarli in Italia pagando tutte le tasse dovute e le sanzioni in misura ridotta. Questa è una misura che stanno adottando tutti i paesi europei. E cerca di dare l'opportunità ai cittadini che non sono in regola di mettersi in regola prima che parta di fatto lo scambio di informazione tra per esempio la Svizzera e l'Unione Europea. Quindi questa è una misura assolutamente europea. La seconda che riguardava l'allungamento dei tempi di accertamento in realtà è una vera rivoluzione. Noi cosa intendiamo fare? Per i piccoli contribuenti, piccole imprese anziché utilizzare accertamenti che avvengono 4-5 anni dopo spesso un po' vessatori invece adesso inizieremo a usare i dati. Noi abbiamo con gli strumenti a disposizione possibilità di fare l'incrocio dei dati e capire se un certo contribuente non ha dichiarato qualcosa. quindi verrà mandato una lettera dicendo a questo contribuente che al contribuente abbiamo visto che c'è qualche problema vi chiediamo di metterti in regola di nuovo pagando tutte le imposte e una sanzione ridotta. Quindi questa è una misura di prevenzione e di spinta verso maggior fedeltà. L'orgoglio di testata di Bellasio. Possiamo recuperare un miliardo, ho sentito dire da Del Rio che il fisco è il fisco amico quello che vuoi chiamare il fisco amico, no? Allora, l'abbiamo stimato di nuovo con dei meccanismi precisi crediamo in realtà di poter recuperare molto di più però è stato messo in modo prudenziale meno di un miliardo su questo. Grazie.